ciao a tutti i ragazzi bentornati nel nostro canale youtube sono in compagnia di laura oggi come potete vedere andiamo a fare la recensione del manga karakuri circus manga fatto da kazuhiro fujita ovvero l'autore di uscio e tora in italia è edito dalla goen al prezzo di 4 euro e 95 come potete vedere siamo fermi purtroppo al numero 18 finché la goen non si decide ad andare a portare il manga avanti in giappone sono usciti 43 volumi 46 invece di questa edizione se non mi ricordo male e comunque concluso è in corso ovviamente adesso l'anime che vi straconsiglio e adesso andiamo a parlare del manga vi faccio vedere anche qualche immagine veramente molto molto bello praticamente il manga inizia con questi tre personaggi ovvero narumi shirogane e masaru narumi è un combattente un esperto di arti marziali che lavora come mascotte per un circo che un giorno incontra il ragazzo che vi ho fatto vedere prima il ragazzino masaru saiga figlio l'ultimo diciamo erede di una famiglia facoltosa tra cui praticamente il nonno di questo ragazzino era come potete vedere un marionettista narumi è affetto da una malattia ovvero la zona fa che praticamente crea degli spasmi degli attacchi di panico e per curarli momentaneamente bisogna farlo ridere in sostanza in seguito è un manga di combattimento verranno infatti in contatto con shirogane questa artista che lavora in un circo questa marionettista che è stata incaricata anni anni fa si scoprirà di proteggere masaru quindi insomma un po di coincidenze assurde incredibili nel primo volume come possiamo vedere ci sono già i primi combattimenti che avvengono anche con l'ausilio di marionette meccaniche come potete vedere questa è la marionetta meccanica di shirogane ovvero harley kane insomma veramente molto molto bello i combattimenti mi sono mi stanno piacendo davvero tantissimo poi insomma c'è anche lo stile di fugita tanta tanta roba io vi consiglio appunto il manga però vi straconsiglio l'anime perché ci sta piacendo più che altro diciamo che se uno vuole recuperarselo per ora se la goe non procede barra non lo prende qualche casa editrice sarà dura vedere nella fine mentre almeno l'anime seppur tagliando qualche parte velocizzando cose lo dovrebbe comunque riprendere tutto in 36 episodi diciamo che tutta la vicenda ruota intorno ai combattimenti di questi tre protagonisti principali con queste marionette meccaniche esatto e da lì poi si scopriranno vari intrecci e sotto trame che uno non si sarebbe mai aspettato diciamo che questo manga è pieno di colpi di scena veramente pieno di colpi di scena e con molte scene d'impatto direi davvero un manga molto sì praticamente ruota tutto in questa malattia portata poi vedrete se leggerete il manga vedete l'anime dal circo della mezzanotte poi non vi faccio più di tanto spoiler perché evitiamo perché comunque no anche lì diciamo che molto prende molto mano a mano si scopre sempre qualcosa di nuovo ed è davvero una sorpresa continua sì sì no è veramente un bel manga io ve lo straconsiglio vi straconsigliamo come già detto anche l'anime bene ragazzi per il video di oggi è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao